Musica Al tempo situazioni in miglioramento, resta l'allerta gialla in tutta la regione fino alla mezzanotte di venerdì. Le situazioni più critiche a Fasso Corvaro, Monte Grimano e Pesaro, intanto le marche chiedono lo stato di emergenza. Il governatore ha scritto al ministro Musumeci e al capo della protezione civile Fabrizio Curcio. Lismara Calcio, l'impianto sportivo messo in ginocchio dopo i lavori di ristrutturazione di quattro anni fa, rientrate invece l'emergenza all'Ipsia Benelli. Domani l'istituto riaprirà le porte a studenti e docenti. Scontri prima del derby tra Almo Juventus Fano e Vigor Senigallia, identificate 12 persone, scatta il dasco emesso dal questore di Pesaro Urbino. Oltre 600 persone alla notte dei musei a Fano, grande successo per l'iniziativa che ha registrato un più 11% rispetto al 2022, soddisfatta l'assessore Fattori che annuncia a fine giugno presenteremo il progetto per il nuovo museo civico. Stand, convegni, degustazioni e il 52esimo campionato italiano di fumo lento. Da venerdì a domenica torna a Cagli la festa della pipa giunta alla 23esima edizione. Ipoterapia al centro della nuova puntata di Salute che domani ospiterà l'allevatore di cavalli di chiaserna Giuseppe Travagliati. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Anche questa sera daremo ampio spazio al maltempo. In queste edizioni del telegiornale sarà al mio fianco Saverio Olivi, presidente del CB Club Mattei di Fano, coordinatore nazionale FIRA CB, la federazione italiana ricetrasmissioni, rappresentante regionale delle associazioni di volontariato di protezione civile. Buonasera. Dunque la situazione è in miglioramento in tutta la regione. Dalle 14 di oggi nelle Marche l'allerta è diventata gialla per criticità ordinaria idrogeologica e non più idraulica. Cioè per quanto riguarda i terreni ma non più i fiumi. Da una fase di emergenza, ha detto l'assessore alla protezione civile Stefano Guzzi, impegnato nei sopralluoghi, nelle zone più colpite tra Pesaro, Sasso Corvaro e Monte Grimano, passiamo ad una fase di rendicontazione anche se resta alta l'attenzione, soprattutto nelle zone più a rischio, di smottamenti. I danni sono ingenti, diffusi e ripristino del territorio sarà impegnativo anche dal punto di vista economico. La circolazione dei treni a lunga percorrenza si arresterà ad Ancona, probabilmente fino a domenica. Regolare invece il trasporto ferroviario regionale. Martedì prossimo, ha fatto sapere il sindaco Matteo Ricci, ci sarà il Consiglio dei Ministri che definirà lo stato di emergenza. Se non riusciamo ad ottenerlo, ha detto, sarebbe una grande ingiustizia per tutti. Nel pomeriggio il Presidente della Regione, Francesco Acquaroli, ha inviato una lettera al Ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, a Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile per la richiesta dello stato di emergenza. L'ondata di maltempo che ha interessato l'intero territorio della Regione, a partire dal 16 maggio, ha causato ingenti danni, ha scritto il Presidente. Si segnalano numerose strade e infrastrutture interrotte o inagibili, frane e smottamenti, esondazione di fiumi, fossi e torrenti, rotture di argili fluviali, allagamenti diffusi che hanno interessato case, attività produttive e commerciali. Il litorale è stato interessato da forti mareggiate con accumulo di materiale detritico proveniente dai corsi d'acqua. In conclusione della lettera, Acquaroli ha voluto dunque sottolineare che le conseguenze e le ripercussioni sul territorio sono state tali da dover richiedere risorse e poteri straordinari, riservandosi di inviare, non appena disponibile, una prima ricognizione dei danni a tutta e tutta la documentazione necessaria che è già in fase di predisposizione. Sempre nella lettera, il Presidente ha sottolineato che il sistema regionale di protezione civile si è prontamente attivato. Saferio, quanti volontari sono scesi in campo in questi giorni? Da parte della Regione Marche, già fin dal giorno prima, il 15 che c'è l'allerta, sono stati 60 volontari a livello regionale. Il 16 maggio, che era martedì, già eravamo in 485 e la giornata un po' più calda, quella del 17, eravamo in 460. All'incirca un migliaio di volontari, suddivisi su 110 organizzazioni, fra gruppi comunali e associazioni, con motopompe, motoseghe, mezzi in pratica per fuoristrada per poter intervenire laddove c'era la necessità. Questo è un dato a livello regionale che potrebbe sicuramente anche più ampio perché la parte burocratica, quella che arriva in Regione degli incartamenti a livello assicurativo, molte associazioni magari non fanno un tempo al momento per l'emergenza, le inviano magari il giorno dopo. Quindi sono dati sicuramente in crescita, sicuramente di più. A Fano, nello specifico, quanti interventi sono stati eseguiti? A Fano sono stati eseguiti 100, esattamente 116 chiamate, 116 interventi, con l'utilizzo di 56 volontari della nostra associazione e 17 mezzi. Gli interventi sono stati maggior parte per il pompaggio d'acqua e la consegna dei sacchi e tanti altri interventi, soprattutto dai tecnici del Comune e dalle aziende, delle ditte che sono state prontamente attivate dal Comune di Fano. E sono arrivate persone da fuori per aiutarvi a gestire l'emergenza? No, volontari no, perché in pratica siamo riusciti in casa. Grazie e qui posso, mi sento di ringraziare tutti i volontari perché sono arrivati già fin dalla sera del 15, sono restati fino alla fine, hanno dormito in sede, hanno mangiato in sede, compreso anche tutti i dipendenti comunali dell'ufficio tecnico e non solo, abbiamo fatto dei piccoli turni giusto per riposare un paio d'ore, ma siamo riusciti in pratica con la consegna dei sacchi, magari a notte fonde il posizionamento, però siamo riusciti a gestirla nell'ambito del Comune di Fano. Il torrente Arzilla invece ha destato preoccupazione? Sì, il torrente Arzilla a una certa ora ha destato veramente preoccupazione, è stata posta un'asta in pratica sul ponte Mimmo, che tutti i fanesi conoscono, da parte nostra e dalla parte della polizia locale vi è stato un monitoraggio costante fra la foce del torrente Arzilla e il ponte Mimmo. L'ordine era che a due metri, quando l'acqua era arrivata a due metri dal limite del ponte, dovevamo avvisare in pratica l'ingegnere del Comune di Fano perché ci saremmo attivati su una sponda verso in pratica lato nord, protezione civile, lato sud, la polizia locale con degli attoparlanti per informare la popolazione che quando il livello arrivava a un metro dal ponte avrebbe dovuto lasciare la propria abitazione o perlomeno salire in alto e recarsi nelle aree d'attesa. Quali sono queste aree? L'area d'attesa per quella zona già dall'esercitazione che abbiamo fatto mesi fa sono esattamente il parcheggio scambiatore nel lato Pesaro, il parcheggio dietro l'Elisabeth II, il Florida e il parcheggio davanti al supermercato Ex Conad, i giardini. Sono tre zone in pratica dove noi eravamo già pronti anche con tre mezzi, tre pulmini e i volontari muniti di radio per recuperare le persone che avremmo trovato su quell'area. Ora ci spostiamo a Pesaro dove si è conclusa l'emergenza all'Ipsia Benelli. L'istituto professionale, nonostante la riapertura di tutte le scuole, oggi è rimasto chiuso a causa dell'acqua presente nel piano interrato. Grazie al lavoro dei tecnici, degli operai e dei vigili del fuoco, domani l'istituto di Via Nantar riaprirà le porte a studenti e docenti. Marco Lonigro. A Pesaro, scuole aperte, ad eccezione dell'Ipsia Benelli, l'istituto professionale di Via Nantar, a causa delle forti piogge dei giorni scorsi, è rimasto chiuso nella giornata odierna. L'allagamento delle scorse ore ha colpito il piano interrato della scuola, con l'acqua che è giunta fino alla cabina elettrica, impedendo così la riattivazione dell'energia da parte dell'Enel. Giorni di duro lavoro anche nelle ore notturne per eliminare l'acqua e permettere la riapertura dell'Ipsia Benelli a studenti e docenti. Benelli è l'istituto che ci ha creato più problemi, ormai sono 48 ore che lavoriamo, già la scorsa notte abbiamo cominciato a lavorare, contavamo di oggi di essere aperti ma non siamo riusciti, perché purtroppo l'acqua ha bloccato la cabina primaria, e quindi si sono bloccate le pompe e da lì c'è stato il disastro. Domani sicuramente con qualche disagio, che grazie alla dirigente scolastica dell'Istituto Benelli riuscirà in un modo o nell'altro a garantire la giornata scolastica, noi comunque daremo l'energia elettrica per lavorare in sicurezza. Ci abbiamo sperato fino all'ultimo momento, ma passata la notte, al mattino, anche con i tecnici dell'Enel, abbiamo deciso che non era in sicurezza riaprirla. Ad oggi dovremo chiudere entro la giornata e quindi domani tutti a scuola. Occasione importante per fare un bilancio sulle criticità legate al maltempo in altri istituti scolastici della provincia. Chiaramente le criticità endemiche che abbiamo in diversi istituti, con le finestre ammalorate, alcuni punti, questo naturalmente non ha agevolato come in tante altre situazioni della città. Però diciamo che non si è avuto necessità di interrompere l'attività didattica, tranne appunto questa dell'Istituto Benelli. Scuole e non solo, il maltempo ha messo in ginocchio l'impianto sportivo del Vismara Calcio, considerato all'avanguardia a livello dilettantistico, dopo i lavori di ristrutturazione di quattro anni fa. Purtroppo, come potete vedere, i danni sono ingenti. Come società sportiva noi ci siamo subito attivati, chiaramente con tutti i dirigenti, ma anche i ragazzi componenti della società sportiva, per ripristinare le strutture, intese come spogliatoi, luoghi di ricreazione e anche la sede. Però purtroppo il danno più grande che abbiamo ricevuto è qui sul campo sintetico. Questa è la casa di 200 ragazzi, una casa sportiva per 200 ragazzi del settore giovanile, e non solo, perché c'è l'associazione Out che fa calcio sociale qui, abbiamo un calciotto che si allena qui, c'è una terza categoria che si allena qui che è la IAS Dini. E noi come Vismara Calcio vogliamo quanto prima, quanto prima, ripristinare questo campo, chiediamo aiuto un po' a tutti, perché dobbiamo in qualche modo ripristinare questo campo quanto prima possibile, per dare una casa sportiva ai ragazzi. Quali saranno le prossime azioni? Abbiamo sabato mattina un sopralluogo con la ditta che ha costruito il campo, che è la Delfino, insieme al comune che si è subito attivato. Dovremmo capire l'entità dei danni, sabato mattina durante questo sopralluogo capiremo l'entità dei danni, perché la moquette, detta in maniera molto pratica, è completamente rovinata. Quindi bisognerà capire sottofondo cosa ha subito, quali danni ha subito per cercare di affrontare al meglio il ripristino. La provincia di Pesero-Orbino ha lanciato un appello indirizzato a ciclisti e motociclisti. In questi giorni ha spiegato al presidente Giuseppe Paolini opportuno non frequentare le strade provinciali interessate dal maltempo. Gli sversamenti di fango che si stanno rimuovendo possono creare insidie e pericoli a causa dello scivolamento. In particolare sulla panoramica San Bartolo, ha precisato Paolini, che ha parlato di milioni di euro necessari al ripristino delle infrastrutture stradali. Del resto, ha fatto notare il dirigente del servizio Viabilità, Mario Primavera, chiusure complete o parziali risultano al stato attuale nel 40% delle strade provinciali. Restano completamente chiuse la strada provinciale 68-Monte Guiduccio, la 128-Monte Grimano, la 130-Valle di Teva, la strada provinciale 67-Sasso Corvaro, la 9-Feltresca e la strada provinciale 70-Piandi Castello, mentre le altre 51 arterie danneggiate dal maltempo rimangono transitabili a senso unico alternato. Nonostante i danni ingenti provocati al nostro territorio, l'Emilia Romagna piange tante vittime, salgono a 42 i comuni alluvionati, circa 10.000 gli spollati. Saverio e Dallemarche sono partite delle squadre per aiutare quelle popolazioni? Sì, la regione Marche è stata coinvolta nell'aiuto all'Emilia Romagna, sono partite diverse squadre la settimana scorsa con i relativi cambi, e proprio di oggi è la richiesta di intervento con delle grosse motopompe che ha la regione, sono partite nel primo pomeriggio e anche la nostra associazione è stata coinvolta perché le pompe sono talmente grosse che è difficile da spostarle, quindi con il nostro cambio in gru daremo un supporto per spostarle da una parte all'altra. La regione Marche quindi è stata coinvolta anche per l'aiuto in Emilia Romagna e continuerà visto che l'allarme da noi sta rientrando anche nel futuro. Quali sono le difficoltà nella gestione del vostro lavoro? Le difficoltà, se posso dire, sono due. Se non intervieni quando è tutto allagato, prendiamo Ponte Sasso, Ponte Sasso la strada nazionale era completamente allagata su tutti i lati, se non intervieni, in pratica non ti fai vedere, non è intervenuto nessuno, quindi non si è visto nessuno. Se vai ti chiedono giustamente di pompare l'acqua, ma in quel momento, finché le strade sono pieni, i garage sono pieni, non sappiamo assolutamente dove metterla, possiamo solo dare un aiuto alla polizia locale per il traffico su strada, perché poi anche se attiviamo il pompaggio subito dopo c'è la possibilità che da un garage viene tolta e vada a finire nell'altro. Quindi nei primi istanti, nelle prime ore c'è un po' di difficoltà. È vero che laddove ci sono i vigili del fuoco chiediamo a loro l'aiuto, come agire soprattutto e dove intervenire, ma quando ci troviamo soli la difficoltà è proprio la decisione, perché sappiamo con esperienza che se intervieni in un posto fai del danno in un altro, ma purtroppo chi ha bisogno di un intervento questo non lo capisce. Allora nelle prime ore c'è un po' di difficoltà, ma poi si spiana tutto e riusciamo anche... Un'altra difficoltà è che tutti chiamano e abbiamo imparato a non partire più con i mezzi a seguito, con le pompe, perché altrimenti perderemo tempo, ma mandiamo una squadra prima perché noi riusciamo a togliere l'acqua, ma non dove ce ne sono 5 centimetri, perché le pompe hanno bisogno di una quantità importante di acqua. A Pesaro, come abbiamo visto nel servizio precedente, si continua a lavorare per far fronte ai danni provocati da acqua e fango. Per questo, dalla Comune, è arrivato un appello rivolto soprattutto ai ragazzi per aiutare le famiglie in difficoltà. Sì, io e l'assessora Murgia stiamo ricevendo in questi giorni molte sollecitazioni positive, invece, in una tragedia, in un momento molto difficile, che è quella della disponibilità di tanti giovani e meno giovani che vogliono mettersi a disposizione per aiutare le famiglie in difficoltà a liberare le cantine, gli appartamenti allagati. Quindi troveranno e troverete sul sito del Comune un link dove dare la disponibilità per aiutare le famiglie in difficoltà, aiutarle per liberare cantine, per pulire i vani occupati dall'acqua e aiutare le persone più fragili, che è la cosa più importante. Chiameremo all'aiuto i maggiorenni in particolare, ma la sollecitazione più grossa è stata dal forum giovani. Assessore Murgia, a Pesaro siamo stati una città solidale e in queste occasioni lo dimostra anche di più. Sì, l'emergenza ha dentro di sé anche il lato umano delle persone. Oltre la tragedia che vediamo non solo qui nel nostro territorio, in Emilia Romagna specialmente, i giovani diventano protagonisti di un vero atto di solidarietà. Sono stati i primi a contattarci per chiedere come potessero essere d'aiuto, di supporto verso le persone più anziane, per esempio, che hanno le proprie cantine, i propri garage occupati dal fango o ancora dall'acqua. Questo ci fa onore, ci ricorda che le nuove generazioni sono sempre pronte a mettersi a disposizione degli altri, basta riuscire a contattarle, cosa che insieme al Presidente del Consiglio Comunale e anche sulla spinta del Forum Giovani siamo riusciti a concretizzare. Spero che a questa catena umana, e che l'emergenza non serva ancora a prolungarla, però che questa catena umana possa essere un esempio virtuoso anche per coinvolgere altri cittadini. Savero, quali sono invece i dati che riguardano la provincia di Pesero Urbino? Il complesso della provincia sono intervenuti tutti i gruppi comunali, maggior parte nell'entroterra sono le associazioni di protezione di Pesero, sono composte da gruppi comunali, quindi una trentina di gruppi comunali con i propri volontari e cinque associazioni che si sono adoperate anche nei vari comuni. Ad esempio un gruppo comunale importante che ha fatto tanto su Pesero, che è un gruppo che ha oltre 100 volontari, è il gruppo comunale di Pesero che sicuramente ancora starà lavorando. Com'è possibile invece diventare volontari della protezione civile? Avvicinarsi a qualsiasi gruppo comunale o a qualsiasi associazione, ad esempio alla nostra basta presentarsi al Codma o telefonare in pratica in sede, un semplice colloquio perché non è molto impegnativo, ma bisogna comunque avere del tempo e da lì una persona sceglie se diventare, a parte le motopompe e motoseglie, che sono corsi particolari, ma poi sceglie se far parte della giuristica, segreteria, radio, cucina, sceglie il proprio campo e si specializza in pratica su quel ramo. E da lì in poi dedica il proprio tempo. Grazie per questa sua presosa collaborazione, buon lavoro a tutti i volontari della protezione civile e tutti coloro che sono in campo per gestire l'emergenza. Grazie, grazie a voi e ringrazio ancora tutti i nostri volontari. Grazie Saverio Livi, noi andiamo avanti con il giornale, vista la situazione generale dovuta al maltempo e di insegno di rispetto e vicinanza alle persone coinvolte. Avis Fano ha deciso di rinviare a data da destinarsi l'evento Colorà la Vita, che era in programma per sabato 20 maggio. Torniamo a parlare degli scontri tra le tifoserie della Vigor Senigallia e dell'Alma Juventus Fano del 2 aprile scorso in occasione della partita di calcio giocata al Mancini. Grazie alle indagini complesse eseguite dal personale del commissariato di Senigallia in collaborazione con quello di Fano, sono stati identificati coloro che si sono affrontati fisicamente in quell'occasione. Si tratta di 12 persone, tra cui 5 appartenenti alla tifoseria locale che sono state deferite all'autorità giudiziaria, ognuno per le proprie responsabilità per vari reati, tra cui Rissa Aggravata e Porto in luogo pubblico gli strumenti atti ad offendere. Nei giorni scorsi sono state eseguite diverse perquisizioni domiciliari. Tutte hanno permesso di sequestrare elementi utili alle indagini in corso. Inoltre sono stati notificati i provvedimenti d'aspo emessi dal questore di Pesaro Urbino che vieteranno a questi tifosi di frequentare gli impianti sportivi per diversi anni. Per quattro di loro è stato anche disposto l'obbligo di presentarsi negli uffici di polizia nelle giornate nelle quali giocherà la propria squadra. Oggi al Tribunale di Pesaro si è svolta l'udienza riguardante l'incidente che ha visto coinvolto Alessandro Monetti, il giovane imprenditore agricolo di Soria. Dopo nove anni dal sinistro emergono ulteriori dettagli grazie ad un testimone ascoltato dal giudice questa mattina che dopo diversi anni dall'accaduto ha deciso di parlare. Al termine dell'udienza l'avvocato Domenico Musico ci ha rilasciato una dichiarazione. L'impressione è positiva, abbiamo avuto un buon riscontro nel senso che il giudice ha sentito con attenzione il testimone, sembra che le dichiarazioni del testimone siano state precise, ha spiegato come ha assistito all'incidente e il giudice ha disposto la consulenza medico-legale sulle lesioni di Alessandro. Questo ci lascia ben sperare per il proseguimento del processo perché finalmente si valuteranno i danni gravissimi che ha subito per colpa di questo pirata della strada, potrà ottenere giustizia. Quindi siamo molto soddisfatti oggi, però il processo è sempre un processo, bisogna essere sempre prudenti fino alla fine, non dobbiamo cantare vittoria nel senso che comunque si tratta sempre di un procedimento in corso e quindi è il giudice che deve decidere poi in ordine a tutte le domande. Però oggi abbiamo avuto una buona giornata secondo me perché il fatto di avere disposto alla consulenza ci lascia ben sperare sul fatto che poi venga finalmente risarcito questo gravissimo danno e finalmente Alessandro abbia un po' di giustizia dopo tanti anni. Il 6 giugno c'è la prossima udienza e c'è il giuramento del consulente d'ufficio e quindi alle ore 10, quindi ci sarà il giuramento del consulente d'ufficio e quindi noi nomineremo i nostri consulenti di parte. Le dichiarazioni sono rese a verbale quindi io non posso poi entrare troppo nel dettaglio, però è stato molto preciso nella ricostruzione dell'incidente, ha visto Alessandro essere colpito dall'auto e quindi insomma ha reso delle dichiarazioni molto puntuali, quindi poi verranno pubblicate e poi quando saranno pubblicate vi darò riscontro più dettagliato. Ancora cronaca, un incidente si è verificato questa mattina intorno alle 7.30 a Falcineto di Fano, coinvolti una Fiat Punto e un motociclo. A bordo dell'auto c'era un tunisino di 25 anni che stava percorrendo la strada località Falcineto in direzione mare. Giunto in prossimità del Civico 43 è entrato in collisione con uno scooter Aprilia condotto da un tunisino di 26 anni proveniente dal senso di marcia opposto. Sono in corso gli accertamenti della polizia locale di Fano sulla dinamica, il conducente dello scooter è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso di Pesaro. Invece i vigili del fuoco sono entrati in azione per spegnere un incendio divampato in una ditta di smaltimento di rifiuti elettronici sul posto, 10 pompieri, 3 autobotti e il funzionario tecnico. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme utilizzando liquido schiumogeno e provveduto alle operazioni di smassamento dei materiali sul posto, anche il personale di Arpa Marche. Cambiamo argomento. Oggi si festeggia la giornata internazionale dei musei per l'occasione lo scorso fine settimana. A Fano si è svolta la notte dei musei che ha riscosso un grande successo coinvolgendo grandi e piccini. Vogliamo dare un po' di numeri, i numeri della cultura relativamente a sabato 13 maggio e alla notte dei musei che abbiamo ospitato anche nella nostra città. Abbiamo avuto dei numeri eccezionali. 424 presenze nel museo del Palazzo Civico, 135 nel museo della Flaminia e ben 85 per la riapertura parziale del San Francesco. Sono numeri molto importanti per un totale di 644 persone, più di un 11% rispetto all'anno precedente. Questo cosa ci fa capire? Che i musei, se vengono vissuti e se sono abitati, sono delle realtà che sanno attirare e sanno coinvolgere. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato a rendere vivo il museo, che sono i ragazzi del liceo a Polloni e il Fano Jets Club. È stata una giornata meravigliosa, piena di iniziative, di giovani, di persone, di famiglie. C'erano laboratori per ragazzi, per bambini e il museo deve essere così. I musei non sono solo per i turisti, i musei sono della città. Presenteremo a fine giugno il progetto per il nuovo museo civico e sarà un progetto preliminare che andrà a coinvolgere tutta la città e che dovrà coinvolgere tutta la città. Preliminare perché è un percorso da fare insieme, quindi partecipate e vivete il museo. Ci spostiamo a Cagli per il tradizionale appuntamento con la festa della pipa che torna questo fine settimana con stand degustazioni e il 52esimo campionato italiano di fumo lento. È tutto pronto per la festa della pipa di Cagli, l'evento dedicato agli appassionati del settore e non solo con la pipa simbolo del saper fare artigiano. Protagonisti i mastri pipai che con sapienza creano oggetti unici frutto di passione e conoscenza nella lavorazione artigianale della radica unendo ricerca, design e tradizione. L'edizione 2023 della festa della pipa si terrà dal 19 al 21 maggio ed è completamente rinnovata nella sua formula grazie alla sinergia tra Pipa Club Italia, Amministrazione Comunale, Regione Marche e Confartigianato Ancona-Pesero-Urbino. L'evento vuole valorizzare Cagli e l'intero territorio con la presenza delle imprese della produzione pipaia, delle eccellenze dell'artigianato artistico, della via maestra e dell'enogastronomia. 23esima edizione, domani la prima giornata dedicata soprattutto a chi è del settore, quindi con un incontro tecnico, prettamente tecnico, al quale poi seguiranno la serata anche un paio di eventi enogastronomici per cominciare a scaldare un pochino l'ambiente e per raccogliere i master pipa e gli artigiani che vengono a Cagli in questi giorni. Per questo abbiamo coinvolto la scuola alberghiera di Cagli con sede di staccata piobbico e come sapete la festa della pipa parte dal fatto che a Cagli c'è un artigiano da circa 23 anni, si è impegnato a organizzare questa festa. È un artigiano di Cagli appunto Bruto Sordini, in arte Don Carlos e che tanti anni fa ha dato il là insieme alle amministrazioni del tempo a questa bellissima iniziativa. Quest'anno siamo arricchiti dalla presenza costante e di grande impegno da parte del Pipa Club Italia e in primis con il suo presidente Jenny Magritte. E l'evento proseguirà sabato con l'apertura degli stand? Sabato entriamo nel vivo, ci sarà l'inaugurazione attorno alle 11 del mattino. Tanti stand, quest'anno ci siamo voluti abbinare ancora di più al discorso dell'artigianato, quindi presente anche la Confartigianato, presenti insomma tanti artigiani. Ci siamo voluti abbinare anche a Slow Food che crediamo sia insomma il partner ideale per quello che riguarda l'esaltazione di un certo tipo, di una certa cultura. Domenica sarà ancora possibile visitare gli stand ma sarà anche il giorno della gara? Esattissimo, domenica gara di lento fumo, anche questa è una tradizione che ormai si ripete da tanti anni, direi da vedere anche se non si può insomma assistere, però respirare l'aria intorno è bellissimo perché insomma questa gara è dove loro praticamente hanno un tot minimo di tabacco e devono consumarlo, però cercando di tenere accesa questa pipa il più tempo possibile, passiamo oltre le due ore, insomma adesso il record non me lo ricordo ma sono momenti bellissime e particolari dove si capisce tutta la loro filosofia che è una filosofia poi di vita. In caso di maltempo l'evento si svolgerà ugualmente? Certamente, noi negli anni passati abbiamo sempre insomma preferito la diciamo l'abbinamento con i nostri palazzi storici, quest'anno siamo voluti scendere nelle vie di Cagli del centro storico, quindi l'idea principale diciamo il piano A sono quegli spositori fuori nel centro storico, se poi insomma il maltempo dovesse prevalere allora è pronto il piano B per accogliere anche chi ci verrà a trovare e quindi nei nostri bellissimi palazzi occuperemo i nostri palazzi, quindi la diciamo la festa, la gara e tutto quello che insomma abbiamo preparato sarà sempre garantito. Vi invitiamo a venire a Cagli già da domani per insomma per partecipare e tuffarsi in un mondo particolare, venite perché passerete delle ore o passerete delle giornate, chi avrà la voglia di fermarsi anche durante la notte, diverse ma di grande recupero insomma della serenità, della tranquillità e del benessere. Torniamo a Fano dove questa mattina Piazza 20 Settembre si è trasformata in un grande campo di volley con la quarantesima edizione del trofeo Ambrosini della Virtus Volley Fano. Oltre 400 bambini delle classi quarte e quinte delle scuole primarie della città hanno letteralmente invaso il centro storico per questa bella giornata di sport e divertimento. Domani su Fano TV andrà in onda una nuova puntata di In Salute che ospita un allevatore di cavalli di chiaserna, sentiamo. Siamo prontissimi domani venerdì 19 maggio come sempre qua in diretta su Fano TV dalle ore 18 con la tredicesima puntata di In Salute con una puntata bellissima Tomi, di che cosa parleremo? Parleremo dell'ipoterapia e di quanto può essere importante il cavallo in un percorso riabilitativo e importante nella vita di una persona insieme a un super ospite che è Giuseppe Travagliati. Ci vediamo domani. Adesso apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Graziella e Tonino Canapini di Fano che oggi festeggiano 60 anni di matrimonio. Auguri da tutti i familiari e dallo staff di Fano TV. Invece nella comune di Mondolfo tuttavia Meroni in festa oggi per il centenario di Leonite e Sacrati a farle visita come vedete dalle foto anche il sindaco Nicola Barbieri. Vi annuncio che lunedì prossimo a primo cittadino sarà nostro ospite il sindaco di Vallefoglia, Palmiro, Occhielli vedete qua tutti i recapiti. Invece subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire due speciali. Il primo dedicato alla Confederazione Italiana Agricoltori in particolare alle nuove tecniche per il risparmio idrico in agricoltura. Secondo invece sulla finale del progetto Bulling e scuola che si è tenuto a Fano nei giorni scorsi. Io vi ringrazio per aver seguito Occhio alla Notizia, vi ricordo l'appuntamento di domani mattina alle 7 con l'informazione locale e in particolare con la rassegna stampa condotta da Stefania Bonomi. Noi invece ci rivediamo domani sera alle 20 e 30. Buona serata. Grazie.